Nagisa accompagna suo fratello Ryota all'acquario per una ricerca di scienze. Onoka si unisce a loro, rivelandosi una guida preparata ed esperta. Tra pesci variopinti di ogni specie e squali giganti, la giornata trascorre serena, ma il pericolo è sempre in agguato. Le Pretty Cure dovranno difendersi dal potente attacco di Jackie Drago, disposto a qualunque cosa pur di ottenere le pietre. Anche ad usare la sua forza su un bambino indifeso come Ryota. Tutto nella prossima puntata.